Un saluto a Sommerenze Cardinale Angelo, grazie a Monsignor Martino e a Monsignor Ettore, grazie per la vostra presenza. Grazie a tutti voi, presbiteri e diaconi, per tutto il bene che fate nelle nostre comunità. Grazie, grazie per la dedizione e il servizio che spesso mi sorprende e mi commuove. Grazie per i valori evangelici di tante vite sacerdotali, nascoste, umili. Oggi si direbbe di basso profilo, ma in senso molto positivo, che sono la grande risorsa e il conforto del nostro presbiterio. Grazie davvero, fratelli presbiteri e diaconi. Il Signore che vede nel vostro cuore saprà a Lui ricompensarvi di tutto il bene che fate alla nostra Chiesa. Parto da un'esperienza che tutti noi facciamo, credo, tantissime volte, di ascoltare, di visitare, di incontrare, di incontrare persone, di incontrarci tra noi sacerdoti, tra gruppi, associazioni, famiglie. A tutti noi capita. Ultimamente a me è successo e mi ha colpito perché è tornato molto spesso, molto spesso, ovviamente non sempre. Molto spesso è tornata una domanda, una sete, un desiderio che io ho colto, un desiderio di comunione, una sete di comunità, una domanda di partecipazione. A me ha colpito questo, mi ha colpito. Ovviamente non possiamo e non devo generalizzare, ma a me ha colpito questa domanda, questa sete, questo desiderio. E chiedo al Signore, ai nostri Santi e Sante, che ci dia la grazia a noi, presbiteri e diaconi, la grazia di cogliere, intercettare, incoraggiare, sempre più e meglio, questo desiderio, questa sete, questa domanda. Che il Signore apra i nostri occhi, i nostri orecchi, il nostro cuore, davvero a intercettare e a cogliere questa domanda, magari non fatta in maniera chiarissima, in maniera perfetta, uno A, uno B, uno C, ma sotto uno coglie che c'è questo desiderio, pur nella fatica. Noi presbiteri e diaconi sentiamo la verità delle parole di Isaia nella prima lettura. Lo Spirito del Signore Dio è su di me. Sentiamo la verità, grazie e in grazia, della nostra ordinazione, certamente. È bello, e a me piace tanto pensare che in forza del battesimo e della confermazione, anche i fratelli laici e laiche sono portatori delle emozioni dello Spirito. In grazia del battesimo e della confermazione. Sono portatori delle emozioni dello Spirito. E credo che siamo per primi noi, presbiteri e diaconi, a crescere, chiamati a crescere in questa consapevolezza ed aiutare i nostri fratelli e sorelle a crescere in questa consapevolezza. Crescere in questa consapevolezza noi, presbiteri e diaconi, aiutare a far crescere in questa consapevolezza i nostri fratelli e sorelle laici. La forte convinzione che spinge un ministro ordinato ad ascoltare la voce del suo popolo nasce da una certezza, certezza che la grazia divina è già donata e operante in ogni battezzato. È già operante. Noi dobbiamo semplicemente coglierla, intercettarla. Siamo chiamati davvero a chiedere la grazia dello Spirito Santo per vedere la grazia divina già operante e già donata in ogni battezzato. Allora una domanda mi viene che faccio a me e che condivido con tutti voi. Sentiamo una rinnovata chiamata del Signore ad andare avanti insieme. Andare avanti insieme. Ministri ordinati, religiosi, religiosi, laici. Andare avanti insieme nell'assunzione di corresponsabilità al servizio della comunità cristiana. Sentiamo una rinnovata chiamata del Signore ad un'assunzione di corresponsabilità al servizio della comunità cristiana. E proprio su questo tema della corresponsabilità mi piace condividere alcuni pensieri partendo da due discorsi, uno di Papa Benedetto XVI e un altro di Papa Francesco e dal documento della Commissione Teologica Internazionale sulla Sinodalità. Sono due discorsi e un testo che a me hanno fatto molto bene, ha fatto molto bene a leggerli. La strada, dice Papa Francesco nel suo discorso, che Dio sta indicando alla Chiesa è quella di vivere più intensamente e più concretamente la comunione e il camminare insieme. Interessante. Questo Papa dice la strada che Dio ci sta indicando è questa, è quella della comunione e del camminare insieme. Davvero siamo chiamati come presbiteri e diaconi a metterci su questa strada che Dio ci sta indicando attraverso il nostro Santo Padre. La strada che Dio sta indicando alla Chiesa è la comunione e il camminare insieme. Dice il Papa, c'è ancora tanta strada da fare, perché la Chiesa viva come un corpo, come vero popolo, unito dall'unica fede in Cristo Salvatore, animato dallo stesso Spirito Santificatore e orientato alla stessa missione, annunciare l'amore misericordioso di Dio Padre. C'è un aspetto decisivo in queste parole, il popolo è unito dalla missione. Il popolo è unito dalla missione. La corresponsabilità trova la sua sorgente, il suo ultimo scopo nella missione. la corresponsabilità nasce dalla missione ed è orientata alla missione. Non è prima di tutto un fatto giuridico. La corresponsabilità è orientata alla missione, nasce nella e dalla missione. Allora è importante che tutti noi ci sentiamo animati, appassionati della nostra missione, perché da qui potrà nascere la corresponsabilità. O altrimenti sarà un'alchimia, magari ben fatta, ben studiata, teologicamente perfetta, canonicamente giusta. Ma non sarà la corresponsabilità che viene dallo Spirito, perché questa corresponsabilità nasce ed è orientata alla missione. La corresponsabilità nella Chiesa non dipende da qualche novità teologica, come qualcuno dice, e neppure da esigenze funzionali per la diminuzione dei sacerdoti, come qualche altro dice. Tantomeno nasce da rivendicazioni di categoria per concedere una rivincita a chi è stato messo da parte in passato. No, non nasce da qui. Si basa su una corretta visione di Chiesa, della Chiesa, la Chiesa come popolo di Dio, di cui i laici fanno parte a pieno titolo insieme ai ministri ordinati. Certo, per vivere la corresponsabilità che è impegnativa e sfidante, io capisco benissimo, e tutti capiamo quanto questa parola, questa realtà, questo stile sia impegnativo e sfidante, richiede formazione. Richiede formazione per noi presbiteri e diaconi, richiede formazione per i nostri fratelli e sorelle laice e laiche. formazione, formazione. Quanto è importante che dedichiamo davvero energie, tempo e fantasia, perché insieme ci possiamo formare alla corresponsabilità. Certo, dicevo prima, forse non tanto sull'aspetto giuridico, anche se il documento della Commissione Teologica Internazionale parla chiaramente, parla chiaramente dei ruoli, dei compiti, dei ministeri in questa corresponsabilità. Non è una giungla. Non è che ognuno può fare quello che vuole. No. Il documento dice chiaramentissimamente quelli che sono le realtà di questo cammino nella corresponsabilità. Ma davvero credo che siamo chiamati come presbiteri e diaconi insieme ai fratelli e sorelle laici e religiosi e religiose a crescere in questa corresponsabilità che a me pare abbia non tanto tre gradini ma un tripode che va avanti insieme. La collaborazione che già nella nostra Chiesa è molto presente. Molto presente. Davvero grazie ai presbiteri, ai diaconi, ai laici e alle laiche che vivono questa collaborazione nelle nostre comunità. C'è poi un secondo aspetto che è la condivisione tra noi sacerdoti e i nostri fratelli e sorelle laici. Certamente c'è esame di associazioni e nei gruppi. Credo che sia un aspetto sul quale dobbiamo chiedere la grazia di crescere per poter davvero vivere la corresponsabilità. Sono tre parti dello stesso tripode che devono camminare insieme. E su questo chiedo davvero la grazia del Signore e dei nostri Santi e Sante che ci illumini, ci guidi e ci faccia camminare insieme. Dice Papa Francesco Molte volte siamo caduti nella tentazione di pensare che il laico impegnato sia colui che lavora nelle opere della Chiesa e o nelle cose della parrocchia o della diocesi. E abbiamo riflettuto poco su come accompagnare un battezzato nella sua vita pubblica e quotidiana, su come nella sua attività quotidiana con la responsabilità che ha si impegna come cristiano nel campo della carità, nel campo della politica, nel campo dell'economia. Dice il Papa forse siamo caduti nella tentazione che il laico impegnato stia in parrocchia o in diocesi. Forse ci sono tanti altri campi nei quali siamo chiamati ad accompagnare i nostri fratelli e sorelle battezzati. Papa Francesco disse Carissimi, vorrei che tutti noi avessimo nel cuore e nella mente questa bella visione di Chiesa. Una Chiesa protesa alla missione. Una Chiesa protesa alla missione. Dove si unificano le forze e si cammina insieme per evangelizzare. Missione. Evangelizzazione. Una Chiesa in cui ciò che ci lega è il nostro essere cristiani battezzati, il nostro appartenere a Gesù. Una Chiesa dove fra laici e pastori si vive una vera fratellanza, lavorando fianco a fianco ogni giorno, in ogni ambito della pastorale, perché tutti sono battezzati. Davvero chiediamo la grazia al Signore di crescere come Lui vuole in questo cammino che il Santo Padre Benedetto e Papa Francesco ci stanno e ci hanno guidato e ci stanno guidando. Finisco un aneddoto. Molti eremiti abitavano nei dintorni di una sorgente. Ognuno di loro si era costruito la propria capanna e passava le giornate in profondo silenzio, meditando e pregando. Ognuno, raccolto in sé stesso, invocava la presenza di Dio. Dio avrebbe voluto andare a trovarli, ma non riusciva a trovare la strada. Tutto quello che vedeva erano puntini lontani tra loro nella vastità del deserto. Poi, un giorno, per un'improvvisa necessità, uno degli eremiti si recò da un altro. Sul terreno rimase una piccola traccia di quel cammino. Poco tempo dopo, l'altro eremita ricambiò la visita e quella traccia, quel viottolo, si fece più profondo. Anche gli altri eremiti incominciarono a scambiarsi visite. La cosa accadde sempre più frequentemente. Finché un giorno, Dio, sempre invocato dai buoni eremiti, si affacciò dall'alto e vide che vi era una ragnatela di sentieri che univano tra di loro le capanne degli eremiti. Tutto felice, Dio disse, adesso sì, adesso ho trovato la strada per andarli a trovare. Prima della benedizione mi piace ricordare una cosa. Dove c'è stata la strage di capaci e tutti ci ricordiamo cos'è stato. È stato piantato un oliveto. Da quell'oliveto è venuto anche un po' dell'olio che oggi abbiamo avuto qui in mezzo a noi che sarà un po' quello che noi faremo per le nostre comunità. È un'occasione per pregare e continuare a pregare per il dono della pace. Non stanchiamoci di pregare per la pace e chiediamo davvero a Dio che ci faccia questo grande regalo e che tutti noi siamo già adesso nelle nostre relazioni strumenti di pace. Essere strumenti di altro è molto facile basta vederlo. Essere strumenti di pace richiede davvero dire Signore aiutami aiuta il mio pensiero la mia parola i miei gesti che siano soltanto e solamente parole pensieri e strumenti di pace. e su questo chiediamo davvero al Signore la sua bendizione sulla nostra chiesa su noi presbiteri e diaconi sul popolo che il Signore ci ha affidato. E il grande dono che Dio ci ha fatto è di essere presbiteri e diaconi è un bel regalo. Ringraziamolo e regaliamo questo bel dono ai nostri fratelli e sorelle che ogni giorno il Signore mette sul nostro cammino. Grazie ancora fratelli e buon cammino e Santa Pasqua a voi e alle vostre comunità. Grazie.